Musica Ben ritrovati in nuova puntata di Fmotori su Telefriuli vi raccontiamo gli sport motoristici del Friuli Venezia Giulia vediamo gli ospiti di questa nuova puntata e con noi tra pochissimo starà uno dei protagonisti all'Italian Bahia un saluto a Federico Crozzolo Buongiorno a tutti Ancora quattro ruote, pilota da rally prevalentemente in questa stagione su terra con noi abbiamo Francesco Pivetta dell'America Sport Buongiorno a tutti Per le due ruote Motoclub Bibione il pilota di Motocross, un saluto a Luca Brunzin Buongiorno Vediamo notizie a Muro Leccese in occasione del secondo appuntamento della VSK Champions Cup di kart ottimo secondo posto per il friulano di Spilimbergo Lorenzo Travisanuto del PCR TM staccato di tre secondi dal vincitore ed autore di una grande partenza che l'ha visto risalire velocemente al secondo posto grande partecipazione con oltre 250 persone alla cena di beneficenza ricordo del pilota Luca Birarda svoltasi il primo marzo scorso a Maiano oltre ai numerosi amici e conoscenti ospiti ormai fissi dell'evento erano presenti il sindaco di Colore del Montalbano e gli assessori ai lavori pubblici di Maiano che ospitava la serata presente anche Alberto Toffoletti in cui rappresentanza dell'associazione Luca Onlus cui verranno devoluti in beneficenza gli incassi della serata il quale ha spiegato il progetto dell'associazione il bilancio economico parla di oltre quasi 4.000 euro raccolti che verranno versati all'associazione Luca Onlus la serata è stata anche seguita da oltre 500 persone in diretta streaming i complimenti alla famiglia Birarda dunque un'avventura che inizia con l'Italian Bahia per il nostro Federico Crozzo lui che è abituato ad altri percorsi tracciati come la pista prevalentemente sia con le monoposto che con le Gran Turismo ti lanci in questo 2014 con una qualcosa di inusuale parliamo effettivamente di una cosa strana una Bahia che cambia completamente un po' quelle che sono le visioni di un pilota sì devo dire è una bellissima esperienza questa che vivo è una cosa che sognavo veramente da tempo perché si corre proprio nel territorio di dove sono nato dove sono cresciuto insieme all'altro pilota che corre con me che è Andrea Tomasini abbiamo deciso di fare questo progetto ce l'abbiamo fatta quindi veramente sarà una bellissima esperienza non ho esperienza su terra quindi per me sarà penso veramente difficile ma sono molto ottimista e credo comunque che l'esperienza del motocross da ragazzo qualcosina mi aiuti e quindi insomma devo anche ringraziare la nostra scuderia North East Ideas con Fabrizio Martinez che tra l'altro è mio cugino che veramente mi ha dato una mano e ci ha seguiti e quindi insomma sono veramente carico e penso che faremo insomma belle cose ecco lì una gara con delle prove speciali di 80 km, 100 km molto lunga perciò bisogna anche avere una condotta di gara molto particolare e certamente di usare anche le forze ma soprattutto all'inizio sarà difficile per uno che non è abituato sulla terra sì penso anch'io penso che la gara sia appunto molto difficile dal punto di vista proprio della durata penso che vinca o comunque sia una gara molto mentale bisogna tenere il ritmo non pensare come la pista di dare il 110% ma piuttosto tenere un buon ritmo costante per evitare errori gli errori sono molto facili perché visto il terreno ho notato che sono facili però insomma cercare di tenere il ritmo e andare fino alla fine un'ennesa Navarra a 4,5 T1 perciò sarai schierato assieme ai migliori quelli che poi la giocano per la vittoria finale grandi nomi anche quest'anno vengono riconfermati hai già avuto l'occasione di provare il mezzo di fare così qualche giretto per testare quelle che sono le condizioni della vettura ma soprattutto un po' di allenamento il mezzo lo proverò dopo questa trasmissione quindi siamo proprio all'ultimo però sono contento sì la macchina penso insomma che abbiamo veramente delle buone macchine il team 4x4 Explorer è un gran team e quindi hanno esperienza insomma penso che insieme a loro di avere tutti i mezzi ecco smanco solo io e il piede e poi dopo la festa del giovedì sera ci sarà domenica anche un'altra grande festa raccontaci con un ospite d'eccezione sì avremo domenica sera per chiudere questa avventura insieme presso il Fossa Mala locale Fossa Mala di Fiume Veneto faremo una festa di chiusura avremo ospite con noi che poi sarà con noi anche tre giorni di questa magnifica esperienza René Arnoux grande e dimenticabile campione di Formula 1 eh sì sì quindi per chi comunque volesse venirlo a conoscere o insomma vuole venire a far festa con noi domenica sera al Fossa Mala aspettiamo perciò un po' tutti anche gli amici che ci ascoltano e ci seguono da casa parliamo di rally parliamo di rally su terra grazie a voi buona serata torniamo a parlare ancora di Bahia siamo proprio qua con il nostro Federico Crossolo allora la vettura la proverai proprio quasi in concomitanza ma l'impressione qual è? soprattutto vedendo anche i filmati che stiamo mandando in onda quali sono le tue prime impressioni? le mie prime impressioni sono che i mezzi sono completamente diversi da ovviamente le vetture da pista quindi macchine decisamente pesanti guida totalmente diversa quindi penso che bisogna resettare tutto prendere magari il buono di quello che è l'esperienza in pista magari la pulizia di guida e il fatto magari di avere i punti di corda giusti per il resto sono a completo ascolto del navigatore che è Paolo Pazian che sono fortunato di averlo e veramente mi darà grandi consigli anche per chi ha già esperienza sull'offrodo è importante poi soprattutto le prime esperienze di un Bahia che è un po' al di fuori dal cross country rally standard perché sappiamo che ad esempio il campionato italiano si corre su dei terreni che sono praticamente quelli che conosce bene Francesco Piveto ovvero sia del rally su terra qua invece il Bahia ha dei fondi molto più accentuati con dei guadi qua le cose cambiano tutto anche Codeca che è il campione italiano al cross country rally l'ha detto qua al Bahia la storia cambia è vero? Sì assolutamente sì penso che appunto ci sono delle tecniche comunque di fuoristrada a cui che sono veramente estremizzate quindi è importante ascoltare i consigli e penso che per me sia fondamentale avere Paolo che mi segue in parte che mi darà grande supporto su questo Chi magari ci troverà un pochino più a suo agio è Francesco Piveto perché effettivamente se confrontiamo un po' al rally su terra è un pochino più vicino al cross country o al Bahia rispetto a quello che fino adesso ha fatto in pista chiaramente Federico di cui parlavamo un attimo fa però così sei un po' incuriosito da queste competizioni è una bella gara l'ha provata Fabrizio Martinis l'anno scorso e ha detto che è molto più difficile comunque di un rally su terra perché comunque hai riferimenti diversi sei un greto del fiume sì non hai poi lì il navigatore ha delle note diverse totalmente rispetto al rally classico totalmente io non conosco il Bahia nel Bahia quel tipo di gare là però penso che sia una cosa veramente divertente con dei mezzi che sono molto molto difficili a guidare se tu dovessi affrontarla con un mezzo cosa ti viene in testa? una gran vitara per iniziare? anche troppo anche troppo Suzuki Samurai piccolino ti accontreresti anche di un qualcosina di meno performante piuttosto magari di partire certo certo allora Bibione Luca a tuo avviso certo il fondo sabbioso mette molto in difficoltà soprattutto chi non ha esperienza esattamente però vengono abbastanza anche livellati molto spesso i valori in campo perché vedo chi federico tornando a quello che è l'appuntamento del Bahia potrebbe essere magari un futuro anche un qualcos'altro di diverso dal Bahia alla pista non so ormai ti manca solo il rally classico c'è anche un'idea di quel genere oppure no c'è un'idea di quel genere perché essendo nella scuderia North Ideas con Fabrizio ovviamente sta organizzando la Monica Tratte la presidente la Monica sì non si può non salutare la Monica stanno in fase di organizzazione del rally della Carnia non posso non mancare a questo appuntamento anche se non ho mai fatto un rally perché sono di origine carniche e quindi mi hanno chiamato subito e mi hanno detto tu sei il primo che devi salire come North Ideas quindi sono molto fiero sono delle prove molto impegnative ricordiamo il rally della Carnia c'è il pura su due tratti che in passato sia il rally della Carnia la vecchia edizione ma poi anche il rally di Piancavallo quando era il campionato europeo ma c'è una speciale che anziché farla in salita si fa in discesa bisogna avere molto coraggio forse uno che fa pista può avere un favore sì penso che sicuramente sarà emozionante adrenalinica perché da ragazzino mi ricordo le strade andavo via con mio papà e mi ricordo che ci si divertiva e oggi la vedi in maniera diversa però sì sicuramente strade strette e poi insomma penso che sia veramente emozionale gara molto emozionale e l'esperienza con la pista con questi prototipi poi che comunque danno delle belle soddisfazioni che ricordo hai ma io ho un bellissimo tipo la Predator sì sì assolutamente io ho un bellissimo ricordo e spero comunque di continuare a investire nel circuito perché è il mondo dove comunque insomma sono appassionato e dove vorrei continuare a migliorare le Predator sono state una grandissima lezione di vita perché sono delle macchine molto semplici non nessuno controllo elettronico macchine uguali insomma campionato veramente avvincente veramente per rapporto costo beneficio insomma divertimento direi Paolo Marcon l'hai trovato da qualche parte a battagliare uno che ha corso anche lui Paolo Marcon sì Paolo Marcon sì ci siamo trovati è capitato sì assolutamente allora vediamo quelli che sono gli appuntamenti del fine settimana il motoclub San Giovanni di Livenza organizza per domenica 16 marzo a Santo Dorico di Sacile secondo appuntamento del trofeo nord-est del campionato regionale enduro country ricordo l'appuntamento con l'Italian Bahia Coppa del mondo cross country per auto, moto e quad dopo il prologo del venerdì si gareggia ancora sabato 15 domenica 16 il quartiere generale nella fiera di Pordenone vi aspetto già dalla partenza ovviamente al venerdì ormai siamo in conclusione un grazie ai nostri ospiti abbiamo parlato in maniera quasi equa tra la fuoristrada cross country rally il rally e poi anche un po' di motocross ed enduro un saluto e un arrivederci in un bocca al lupo a Federico Crozzolo che è participa all'Italian Bahia della Nord East Ideas e con noi abbiamo avuto anche il pilota del rally MRC Sport un saluto anche a Francesco Pivetta grazie con noi anche Luca Brunzingio giovane pilota di motocross del motoclub di Bibione vi aspetto la prossima settimana sempre con F motori ciao grazie a tutti Grazie per la visione!